Cedo la parola al professor Pizzorno. Il consumatore medio è l'italiano del miracolo economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali remore psicologico del risparmio simulato dagli incentivi più evidenti, l'esempio, l'emulazione, la pubblicità, le facilitazioni d'acquisto. Questo consumo d'autore medio è un incalcolabile serbatoio che può permettere alla produzione di mantenersi ai livelli raggiunti e di superarli trionfalmente, purché venga costantemente controllato, sondato, sviato, incitato, frustato. Grazie a tutti.